Lettura della civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale, a cura di Andrea Zorzi, edito da Firenze University Press. Disponibile per l'acquisto o il download gratuito in formato digitale al link in descrizione. Capitolo terzo. La civiltà comunale italiana nella storiografia francese, di Elisabeth Corse Pavan. Negli ultimi tempi, a causa del programma imposto per la storia medievale al concorso dell'aggregation, pullerano sugli scaffali delle librerie i manuali dedicati alle città d'Italia tra la metà del XII e la metà del XIV secolo. Gli studenti francesi scoprono così la storia della civiltà comunale italiana. I grandi momenti del movimento comunale, i successi dei comuni lombardi e toscani, l'evoluzione economica delle città, il costituirsi del paesaggio urbano e la saliente documentazione che rende conto di questa storia. Il viaggio nella storiografia francese degli ultimi due secoli assume allora un significato del tutto particolare. Esso ci racconta la storia di un appuntamento mancato, la realtà di un'assenza di curiosità e dei tropismi di storici interessati più allo studio della dominazione angioina o dello stato pontificio che alla storia dei comuni dell'Italia centro-settentrionale. Bisognerebbe, senza esitazione alcuna, affinare la cronologia, periodizzare meglio, sapendo che non c'è mai stato un unico modo di guardare all'Italia in seno ad una generazione di storici, ma piuttosto una serie di approcci convergenti. Dobbiamo quindi sottolineare quali siano stati in successione i temi di studio prediletti dai francesi ed identificare, da una generazione all'altra, filiazioni e cambiamenti di interessi non per forza legati alla tradizione francese, ma appartenenti a quello che si potrebbe definire un'air du temps storiografico. È una storia che deve essere ritmata in sequenze ed evoluzioni che ricalchino in parte le mutazioni generali della disciplina storica. Ma prima di esporre queste linee di tendenza è necessario osservare che l'inventario è, per un lungo periodo, tragicamente deludente. Proprio per questa sua vacuità lo si può rapidamente ricostruire. Per contestualizzarlo è necessario considerare nel loro insieme il panorama storiografico e i temi che gli storici francesi, nel loro guardare all'Italia, hanno scelto di trattare. Aggiungerei, affinché niente manchi a questa constatazione preliminare, che lo spoglio delle principali riviste storiche francesi, fino agli ultimi decenni, non fa che confermare le lacune. Rare sono le recensioni delle grandi opere italiane e anche quando diventano più frequenti l'Italia dei comuni attira ben poco l'attenzione. Tutto però sembrava essere cominciato nel modo migliore. Il XIX secolo infatti si aprì con l'immensa sintesi di Jean-Charles-Leonard Simon de Sismondy. A quest'opera di otto volumi dedico qui alcune considerazioni preliminari. Malgrado il successo non ci furono continuatori, neanche modesti. Questi brillanti inizi sono dunque illusori. Se si fa eccezione per il libro atipico di Edgar Quinet, o di qualche altra opera singola in un momento in cui la storiografia francese era massicciamente nazionale e ogni tanto anche nazionalistica, la storia della civiltà comunale italiana è una storia ignorata e rifiutata. Ci soffermeremo in un primo momento su queste eccezioni, ricollocandole nel loro rispettivo contesto, visto che le varie opere non formano per nulla un discorso omogeneo. Scopriremo poi, seguendo da vicino il corso della produzione storiografica francese, che l'Italia studiata fosse soprattutto un'Italia francese. Il fascino dell'Italia angioina fu fortissimo, ma non solo. Nello stesso tempo, anche quando i membri dell'Ecole Française de Rome osavano incamminarsi su altre strade, tralasciando così il regno capitingio situato a sud della penisola italiana, preferivano studiare la storia del papato. Il che equivale a dire che in tutte le opere di questi autori l'Italia comunale rimane dunque un'Italia mascherata, dissimulata, presente al meglio nell'ombra o negli interstizi. Infine, come terza linea direttrice del nostro discorso, sottolineeremo l'interesse predominante per lo studio della storia economica dell'Italia medievale. In partenza l'approccio economico fu opposto, senza sorprese, dal gruppo degli annal, prima di svilupparsi in maniera più ampia. Tuttavia, né la società urbana né le istituzioni comunali beneficiarono di questi nuovi interrogativi. Gli uomini d'affare si trovarono così proiettati al primo posto sulla scena storiografica, offuscando ancora una volta i podestà e i capitani del popolo. Questi ultimi oggi attirano al contrario tutta l'attenzione al punto di mascherare a loro volta gli uomini d'affari. Al risveglio tardivo della storiografia francese per quanto riguarda la storia dei comuni e alla produzione storiografica più recente, dedicherò le considerazioni conclusive. L'inizio, l'ho appena ricordato, è stato imponente. L'histoire des republiques italiennes è l'esaltazione della rivoluzione comunale e la storia gloriosa delle città amanti della libertà. Certo, Sismondi è nato a Genova, ma egli scrive in francese e ricollocandolo nella storiografia francese non faccio altro che seguire fedelmente gli studi dedicati alla storia della storiografia. Due esempi bastano. Il primo è tratto da una ricerca pubblicata in Russia, quella di Boris Reizov che nella sua Historiografie romantique française dedica l'intero secondo capitolo, intitolato non per niente Au Seul de la Nouvelle Historiografie, proprio a Sismondi. Il secondo lo trovo nell'ormai classica Histoire en France de Puycentin di Louis Alphen, che a sua volta integra Sismondi nella sua analisi del discorso storico francese nel XIX secolo. Dell'opera fondamentale di Sismondi commenterò solo alcune delle caratteristiche più importanti. Innanzitutto, la storia in fieri delle repubbliche deve essere percepita come un cammino della libertà, un progresso dell'emancipazione quando tutto un popolo s'avance dalla carriera della gloria e dalle libertà, quando è «Semme de Saint-le-Cœur, le sentiment de la dignité de l'homme et de son indépendente naturel». Ed è proprio una rivoluzione quella che si mette in moto nel nord dell'Italia, nelle città lombarde. Il termine si ripete «revoluzione», in atto al tempo della lotta per le investiture, «revoluzione che ha creato des nations nouvelles et des hommes nouveaux», «un feu céleste animé les âmes italiennes», «un mouvement noble et viviant se comuniqué alla naissance entière». Le repubbliche borghesi hanno sottomesso le forze feudali dominanti nelle campagne. Quei signori che dal loro castello, come da un reparo, si gettavano sui viaggiatori e sui mercanti per derubarli. Loro, che si rinchiudevano dans les tours qu'ils avaient batté sur des roches scarpées et inturessent le membre de leur famille et d'un petit nombre de courrier à leur sole, per meglio sfidare la rage des armées les plus redoute. attraverso l'affession et les admins aux droits des bourgeoisies et l'arrivée de première des plus de l'État. Attraverso la forza, quand les signors abusent de leurs avantages, les repubbliche s'impongono dunque aux comptes ruraux. Un'interpretazione tipo etnico-culturale viene dunque suggerita da Sismondi. Per permettere agli uomini di conquistare la libertà è la forza individuale che deve entrare in gioco, ed è questa proprio una caratteristica dei popoli del Nord. La forza sociale che risiede nel sacrificio del singolo individuo per la comunità nasce, al contrario, nelle regioni del Mezzogiorno. I popoli conquistatori del Nord hanno trasmesso l'energia a quelli del Mezzogiorno. Questi ultimi, rigenerati, hanno potuto finalmente inseguire un unico obiettivo e preparare un periodo de gloire et de liberté qui souffre pour l'italien au deuxième siècle. Viene così proposta una visione teleologica e ottimistica della storia. Dans le plan général de la Providence, le bien-n'est souvent du mal. Soprattutto, non bisogna disperare des principes des vertus qui forment le noble heritage de l'espèce humane. Tutte le vicissitudini dell'Italia, conquistata dai Longobardi prima e conquistata da Carlo Magno poi, infestata dalle scorrie degli Ungari e dei Saraceni, preparano la riforma universale e i governi municipali. Sono le città che, animate dal desiderio di libertà, perprime diventano indipendenti nella società feudale. Sono le città che costituiscono il motore e il principio stesso della storia italiana. Cette influence preponderante des villes elevera l'origine des deux caratres distinctifs des italiens. Se parle qu'ils sont essentiellement différents des spagnols, c'est que la noblesse des campagnes conserva une partie importante dans le gouvernement. Lo si constata, l'autore sorvola in maniera estremamente rapida le origini del movimento comunale. Quello che gli interessa è ben altro. Come egli annota nel suo journal, quando comincia la scrittura dell'histoire des republiques italiennes, il fine della storia è quello di rendere gli uomini felici e virtuosi, di servire al meglio gli interessi e gli obiettivi della società. Le repubbliche italiane, in maniera del tutto esemplare, mostrano come i modi di governare costituiscono una causa determinante del carattere dei popoli. Esse illustrano la rinascita dello spirito civico, delle virtù e dei talenti. La Constituzione Repubblica des villes comuniqua a tutta la nazione italiana un movimento plus actif. Elle ne développa pas plus de talent, plus de patriotisme, et surtout, plus de l'abilité. Elle augmenta plus la vie de la popolazione. Elle fit accumulare plus de richesse. Elle fit plutôt fleurire les arts, les lettres et les sciences. Una frase merita d'essere sottolineata. Ce fut la gloire des republiques d'Italie de nous avoir enseigné a considérer una vaste parti du monde comme un corps social dont les états indépendents sont les citoyens, à reconnaître que l'oppression d'un seul de ses citoyens est une violation des droits de tout. Faccio una cosa che di solito non faccio, cioè intromettermi in questo tipo di lettura. Come avrete constatato anche nel capitolo precedente, non so parlare tedesco e come avrete sicuramente constatato in questo capitolo, non so parlare francese. Sto facendo il mio meglio. Da qui il secondo paradigma presente con forza nell'opera che contribuisce a dare un senso al primo trionfo della libertà, quello dell'esemplarità fiorentina. Le Republiques Lombardes erano state, nei primi libri, al centro dell'attenzione. La lotta contro Federico Barbarossa sancisce il trionfo della lotta per la libertà. Giungono in seguito al decadimento e la sottomissione. La fiamma brilla prima di spegnersi. Dalla seconda Lega Lombarda si manifestano i primordi del declino e il carattere repubblicano del governo è annientato ancora prima dello stabilirsi della tirannia. Sismondi intravede due cause essenziali di questo declino. Da una parte il ruolo della discordia civile tra nobiltà e popolo. Dall'altra le trasformazioni militari. La forza militare è tutta trasportata nella nobiltà, smettendo i cittadini di essere soldati e le città arruolano dei mercenari. Il suo è un panorama dettagliato dei conflitti tra queste due forze antagoniste, la nobiltà e il popolo. Un panorama di guerre private dell'affrontarsi continuo delle fazioni di Guelfi e Ghibellini, di quella che definisce l'anarchie del 200. I podestà in questo panorama sono presentati come dei tiranni, che differiscono soltanto per la limitazione della durée de la sfonction, perché la prerogative des juges criminels diventa pericolosa nelle romani e conduce irrimediabilmente ad una giustizia arbitraria e violent. Da qui le fazioni si infiammano e il potere militare si rinforza al di fuori dello Stato. La libertà è minacciata. Milano, la più potente repubblica della Lombardia, è la prima a cadere sotto il gioco del dispotismo. Presto trascinerà anche le altre. Le condizioni sono presenti affinché la narrazione si organizzi attorno alla centralità fiorentina. Le Florentine, a chi appartiene l'honore di aver donato l'exemple in Italia di tutte le cose grandi e virtuose. Le considerazioni sul IIIe siècle, sviluppate nel IV volume, rendono gli onori senza sorpresa alla Toscana. Nous avons, depuis un po' di tempo, arrêté un regard presque esclusivamente sui la Toscana. Le grande intérêt che gli historiati florentini hanno sorprenduto da loro reciti, il carattere veramente remarquabile dei loro compatrioti e l'influenza della Repubblica, sempre crescendo durante diversi secchi, sulla politica del mondo civilizzato, placando Florence sulle davanti della schiena da tutta l'Historia dei popoli d'Italia. Ainsi, l'hon ne peut décrire l'Historia della Grèce sans rapporterre alla Repubblica d'Athienne et sans rechercher plutôt les relations des temps d'état d'indépendance avec cette ville illustrer que les détails de leur révolution interiore. Questo focalizzarsi su Firenze possiede due tratti identitari. Da una parte, pur nel cuore di discordia e disordini, anche quando la liberté civile violée, e per Sismondi violata lo è sia al momento degli ordinamenti di giustizia, sia al momento delle lotte che oppongono diametralmente popolo grasso e popolo minuto, la liberté démocratique non abbandona mai Firenze. Dall'altra, durante tutto il secolo e malgrado le guerre civili, Firenze s'impone come il laboratorio per eccellenza della civiltà. Florence a renouvelé l'architecture, la scultura e la peinture. Elle a produit le plus grand poète dont aujourd'hui encore puissent avancer l'Italie. Elle a remis la philosophie en honneur et l'a donné en favor des sciences un'impulsion qui a été suivi par tous les villes libres d'Italie et l'a fait succèdere alla barbare les siècles de Beusart et de Goethe. Questo è un punto essenziale. Sismondi da liberale condanna il dispotismo, ma condanna anche la tirannia popolare e la permissività delle democrazie. Ora, quando nel 300 la decadenza minaccia più città, non puoi esitare ad affermare che pendant le cours de cette période nous conviendrons que le peuple le plus libre d'Italie, le Florentin, était à tout prendre le peuple le plus sagement gouverné et la gloire nationale était blé les fruits des vertus de tout. Infine, ultima tematica che viene espressa con fermezza, la prosperità ma anche la libertà di queste repubbliche è intimamente legata al commercio e al negozio. Mentre i negozianti esigono dalla loro patria la libertà, perché non sono di quegli uomini che un tiranno può attaccare e incatenare, i nobili, al contrario, si lasciano incatenare dalle loro proprietà territoriali. La prosperità è generale, annotazione questa particolarmente interessante, perché il governo dei mercanti non sacrifica le campagne per l'industria della città. Il mais remarquablement favorable à l'agricolture forte prospère sur ses anciens république toscaine. Ora, se la fortuna e l'influenza di Sismondi sono importanti nell'Italia del Risorgimento, il suo libro rapidamente tradotto e ristampato più volte, gli echi della sua riflessione rimangono in Francia assai fiocchi. L'interesse per l'Italia appena nato sembra già affievolirsi. Basti riferersi ancora una volta a Ludovicus Alphen e al suo panorama degli storici francesi. Il XIX secolo, ama ripetere Alphen, è stato il secolo della storia. Mai lo studio del passato è stato così febbrevilmente condotto come in questo periodo. Afferma, all'inizio del XIX secolo, che il risveglio della curiosità storica si è prima di tutto confuso con una passione per quei secoli che a lungo sono stati negletti, per quel medioevo si rebuttante a première vue et inauguré traite avec tant de mépris. Dopo le romanze alla moda, i trovatori e l'immenso successo dei romanzi di Walter Scott, la ricerca diventa più seria. Ma malgrado tutto ciò, l'Italia comunale non è per niente considerata. Non costituisce neppure, ci tornerò, un orizzonte di riferimento per quegli storici che trattano della storia dei comuni francesi. Una sola figura fa eccezione nella lista dei nomi che tutti i manuali di bibliografia svelano, quello di Edgard Kinet. Da prima filosofo della storia, come ben sappiamo, Kinet si afferma come storico attraverso le opere Le Révolution en Italie e La Révolution. Interessiamoci alle Révolution en Italie. All'origine l'opera è dedicata agli esiliati del 1851, quando l'Italia deve ancora nascere dopo lo smacco di una rivoluzione ou la proposité comme toujours à livrer la nationalité. Una nuova edizione offre l'occasione di una nuova dedica, questa volta l'Italia risuscitata. Inutile ricordare l'evidente proposito politico che vi si cela. La Francia deve rialzarsi come l'Italia ha saputo rialzarsi. Alla Roma liberata deve rispondere ora una Francia libera. La prefazione precisa in maniera ancora più chiara quello che le dediche suggerivano. Kinet vuole determinare le cause che condussero, dopo un periodo di storia brillante, al degenerarsi dell'Italia, capire in fondo come una nation chretienne peut mourir et renatre plusieurs fois. Ora, se la riflessione debutta con la Costituzione dell'Italia barbara, l'autore giunge rapidamente allo sviluppo delle repubbliche italiane, Renaissance avant la morte. Egli identifica un unico fattore che spieghi le origini della rivoluzione communale, quello di un restaurarsi, di un ritorno all'antica libertà, una rinascita che è il frutto delle repubbliche marinare. Repubbliche marinare di cui mi intrometto ancora una volta. Ho parlato in un altro video dove si parla anche del Sismondi. Lo potete trovare, digi da te, Repubbliche marinare e lo trovate in giro. Qui Kiné oppone il mare libero alla servitù della gleba del resto dell'Occidente, alla quale i servi si sono piegati. Amalfi, Pisa, Napoli e Venezia, lei che mai si è lasciata sottomettere e dunque è libera da sempre, sono il teatro di questa rivoluzione. Le istituzioni comunali vengono presentate come delle copie grossolane e malfatte delle istituzioni antiche. Poi, appena nate, le stesse repubbliche istigano la lotta contro i baroni del vicinato. In questo impegno attivo, che è quello dei borghesi italiani contro i torrioni germanici, ritroviamo di nuovo l'opposizione tra la latinità e la tradizione germanica. Rimane il fatto che la libertà non riesce completamente ad affermarsi ed è questo un punto essenziale del ragionamento. Le repubbliche non conquistano la sovranità perché si affidano sempre ad un padrone, al papa o all'imperatore. Appena liberata, l'Italia si cerca dunque un padrone nuovo. Vi è una sola causa che spiega questo eccesso di umiltà e questa incapacità di affermarsi nella piena libertà. È la chiesa che ha abituato alla rinuncia, alla sottomissione. L'autore spiega così la fragilità e il carattere effimero delle repubbliche medievali. A differenza di quelle antiche, al primo assalto cedono, abituate come sono a non poter sostirsi su un patron politique. Quello che predomina nei capitoli dedicati al Sacro Romano, impero e al papato non è tanto un racconto evenemenziale, ma un'ampia riflessione politica condotta dalla dipendenza sensibile di considerazioni indotte dalla storia contemporanea sul papato e sul cattolicesimo, sull'incapacità italiana nel forgiare, durante i secoli medievali, un sentimento della patria. L'Italia comunale, dipendente dal Papa e dall'imperatore, in preda alle lotte tra Guelfi e Ghibellini, sviluppa un cosmopolitismo di cui il Podestà, magistrato straniero, è il simbolo perfetto. Il chef dell'età, due lettere, e lui è un decor dell'età et la patrie governée par un homme qui n'appartiene pas à la patrie. Secondo Kiné, che scombussola la cronologia a vantaggio di una riflessione più filosofica, l'unico momento nel quale l'Italia avrebbe potuto produrre una nazione è proprio quello della Lega Lombarda. Ancora una volta è colpa del papato, se non se ne fa nulla. Papato che contribuisce all'asservimento italiano, riconoscendo la premazia dell'impero. Le città alienano la libertà che hanno appena conquistato. Da qui la storia procede. Popolo grasso, popolo minuto, ordinamenti di giustizia, nascita della signoria. Ma per l'autore, i dadi erano stati tratti ormai da tempo. L'Italia è soffocata tra potere temporale e potere spirituale, e l'arte sarebbe diventata quella patria che era stata rifiutata dagli italiani. Nel libro si apre dunque un'altra riflessione più generale sulla civiltà del mezzogiorno europeo, e sul suo ruolo nella costituzione del genio moderno. Sarebbe interessante poter analizzare più a lungo i capitoli dedicati a Dante e Petrarca, sottolineare come si sia costruita in maniera forte la visione di una cultura comunale italiana che sarebbe una cultura borghese. Preferisco però insistere sull'originalità della riflessione che concerne il regno della bourgeoisie, di cui parla Kiné, riflessione fecondata dal paragone con la Francia di metà ottocento. I popolani grassi sono un'oligarchia di ricchi che fondano il loro potere solo sui soldi e che, avendo trionfato sui nobili, marginalizzano il popolo minuto. Siamo lontani dall'erismo del Sismondi e dalla sua simpatia per le imprese dei negozianti italiani. Ce ne allontaniamo maggiormente quando Kiné identifica il terrore come principio stesso del funzionamento delle repubbliche italiane. Criticando coloro che celebrano Outrans, il liberalismo di tali repubbliche, spiega come se gros bourgeoisie industrielle uccidano i loro avversari con le armi della miseria e dell'indigenza, come la fazione vittoriosa ceda al potere attraverso l'ostracismo e l'espropriazione. Le pagine sono taglienti, descrivono secoli di piombo, descrivono la paura, la vendetta, il succedersi delle rivoluzioni che sono rivoluzioni sociali stravolgenti, senza tregua per le condizioni di vita e le proprietà. Mostrano come le repubbliche funzionano per mezzo del terrorismo, un terrorismo che, bisogna sottolinearlo, è consustanzialmente il terrorismo della Chiesa trasmesso alla politica. E proprio a questo terrorismo gli uomini finiscono per sottomettersi, abituati come sono sin dalla loro infanzia, attraverso la religione, al sistema della paura. L'evoluzione di questa repubblica è perciò programmata. Ora, al di fuori dell'opera di Kiné, vero e proprio saggio sulla storia dell'Italia, il silenzio regna in qualsiasi école che si tratti, seguendo la tipologia tradizionale, di quella della storia narrativa, dell'école philosophique, dell'école scientifique. L'Italia comunale non è neanche un possibile orizzonte di paragone per tutti quegli storici che scrivono della formazione di comuni francesi o delle origini del Terzo Stato, come Augustin Thierry o François Bisot. Ricordo a titolo d'esempio il libro ormai classico di Achille Luchère, Le Comune Francais à l'époque des Capitains directs. L'approccio rimane condizionato dalle origini del movimento comunale. Nella prefazione alla prima edizione, l'autore finisce col celebrare quel meraviglioso movimento d'emancipazione che donò la libertà ai servi, che creò delle borghesie privilegiate e dei comuni indipendenti, fece sorgere da terra dei bastioni e delle nuove città, corporazioni di mercanti e di operai, ponendo in un sol colpo, solo accanto alla sovranità, alla feudalità e alla chiesa, una quarta forza sociale destinata un giorno ad assorbire tutte le altre. Vige però un silenzio totale quanto al movimento dell'emancipazione al di fuori del confine del Regno di Francia. Al Fend, accanto suo nella prefazione a una nuova edizione dell'opera, si limita a segnalare l'esistenza all'estero di un'equivalente curiosità storiografica riguardo ai comuni italiani, tedeschi o belgi. Ricorda che la rivoluzione comunale sorse dappertutto nello stesso momento e stabilisce i legami del movimento con gli sconvolgimenti economici e sociali contemporanei. Ma il suo riferimento storiografico essenziale è, senza alcun dubbio, Henri Piran. Un'altra analisi strettamente limitata allo spazio francese la si trova nell'opera di Charpetit du Théli, dedicata alla storia dei comuni francesi, che forma il cinquantaquattresimo tomo della serie L'Evolution de l'Humanité. Mark Bloch in partenza doveva produrre un volume dedicato, secondo il programma stabilito da Henri Bair, alla trasformazione dell'economie urbaine et signoril au capitalisme financier, dal XIII al XV secolo. Dai confini cronologici diversi, il libro di Petit du Théli considera, come indica la prefazione, quello che doveva essere il tema principale di Bloch, i comuni e le origini della borghesia, ma rimane esclusivamente limitato allo spazio francese. Un tale confronto tra realtà diverse viene dunque proposto tardivamente e fu evidentemente agevolato dal progresso delle conoscenze nel campo della storia economica negli anni che precedettero e che seguirono la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1952, la Battejean Lestoccois pubblica Os Origins de la Bourgeoisie, les villes de la Flandre et d'Italie, sur le gouvernement des patriciens, undicesimo e quindicesimo secolo. L'intenzione è chiara. Pirene ha sostenuto che il commercio, a causa delle sue necessità quotidiane, avrebbe fatto nascere il desiderio delle istituzioni cittadine. I mercanti, uomini nuovi, avrebbero condotto da soli questa rivoluzione municipale. L'Estoccois analizza allora come nelle città toccate dal rinnovamento economico si forma un patriziato, sorto come classe sociale all'inizio del XIII secolo, riunendo famiglie di origini diverse prima di conquistare il potere cittadino. Per l'autore, coloro che sono all'origine del patriziato urbano non sono degli avventurieri né degli itineranti vagabondi arricchiti grazie al commercio, ma dei nobili, dei proprietari fondiari, degli immigrati dalle campagne. Da un capitolo all'altro, tutti centrati sulla tematica di storia sociale comparata, la nascense du patriciat, le villes et les débuts du patriciat, l'appogée du patriciat, dinastie patricienne. Le istituzioni cittadine non sono analizzate di per sé. Il dibattito tra l'Estoquois e Georges Spina, precedente la pubblicazione del libro pubblicato negli Annale nel 1946, già sottolineava in modo pertinente la sfida storiografica principale. Con il titolo Les Origines du patriciat urbain, Henri Piren et Célis Trompé, due specialisti di storia delle città fiamminghe, s'affrontavano, opponendosi attorno ad un tema di storia sociale e l'esempio italiano era evocato unicamente per rinforzare le critiche mosse dalla Battleston Quoi. Per spiegare queste realtà storiografiche francesi, propongo almeno due serie di argomenti. Prima di tutto, mi pare che gli storici francesi che studiavano i comuni francesi, al di là dei loro possibili e diversi approcci, si interessavano ad un processo storico di lunga durata, endogeno alla storia francese. Questo approccio teleologico della storia nazionale era irriducibile al confronto con la situazione italiana, nel suo interessarsi sia alla formazione storica del Terzo Stato, sia a quella delle città nate in opposizione alla feudalità e partite alla conquista delle libertà e delle franchigie prima di essere controllate dalla monarchia francese. Ripetiamo poi che la storiografia francese ha sofferto per tanto tempo di troppismi nazionali. Il libro di Charles Olivier Carbonell, Histoire et Historien, dedicato agli anni 1865-1885, lo conferma. L'autore segnala ad esempio la fecondità della produzione degli archivi storici e i membri dell'Ecole des Chartres sono allora grazie alla loro formazione dei medievisti, ma osserva anche come la loro storiografia rimanda profondamente nazionale. Quatre études seulement sulle 164 qui ho pubblicato dal 1886 al 1875 s'interessand a des événements ou a des institutions sans rapport directs avec l'histoire de France. L'analisi della produzione degli storici universitari conferma che la stragrande maggioranza delle opere è dedicata al Medioevo francese. L'esame dettagliato delle riviste va nella stessa direzione. Bisogna innanzitutto ricordare la Revue des questions historiques fondata nel 1866, prima rivista storica di stampo scientifico. Destinata ad un largo pubblico, essa rimane fino al 1876, cioè fino alla nascita della Revue historique, la più importante rivista storica francese. Rileggendo il suo manifesto fondatore ci si ricorda che lo scopo prefissato era quello, attraverso un metodo scientifico, di reagire a proposito di due universi, la storia della monarchia francese e la storia della chiesa cattolica. Non sorprendiamoci dunque nell'osservare la presenza di un nazionalismo historiographique Saint-Fran. Al Medioevo, al XIV e al XV secolo soprattutto, sono dedicati numerosi articoli, molti fondatori e animatori della rivista in effetti sono medievisti. Ma questo Medioevo, descritto come un tempo di sviluppo delle libertà, della gioia di vivere e del benessere popolare, è un Medioevo francese. Nel 1876 viene fondata da Gabriel Monod, un giovane e brillante universitario francese, la Revue historique. Nasce una scuola che crede profondamente nella storia come science positive. Ma se Monod partì dopo l'aggregazione di storia per Firenze, per cominciare una tesi dedicata alle corporazioni fiorentine del Medioevo, egli lasciò rapidamente l'Italia per la Germania, dove seguì dei corsi abbandonando così il progetto della tesi. Il piccolo gruppo di protestanti, liberali e di repubblicani moderati che anima nei primi anni di vita della rivista, le pagine della Revue historique, si interessano ben poco all'Italia dei comuni. Questa considerazione non si fonda, lo confesso, su un vero e preciso studio statistico. Un esame di tutti i numeri pubblicati tra il 1897 e il 1910 permette di cogliere la parte dedicata alle produzioni italiane e non alla storia dell'Italia comunale. Le pubblicazioni delle fonti relative alla storia d'Italia sono segnalate con la più grande precisione. La Revue historique incita qualche storia come di vista italiano a curare una serie di note bibliografiche. Fa appello, per esempio, a Gaetano Salvemini per il resoconto della pubblicazione progressiva della storia di Firenze di Robert Davidson o dell'opera di Isidoro del Lungo da Bonifazio VIII ad Arego VII. Altri nomi, però, sono totalmente assenti. Ad un collaboratore francese si devono numerose recensioni. Ricordo così le 13 righe puramente descrittive consacrate all'opera di Salvemini, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze, o la recensione particolarmente asciutta di alcuni articoli dello stesso autore. Jean Guirot rende conto nel 1908 del libro di Pasquale Villari, I primi due secoli della storia di Firenze. Poco disposto ad elogi, l'autore comincia col formulare tutta una serie di critiche piuttosto severe. Si intravede subito che il libro non è stato capito e che la sua importanza storiografica è completamente ignorata. Niente sull'opposizione tra latinità e germanesimo. Sappiamo che per Villari, come per altri, anche se per questo autore la problematica era considerevolmente più ricca, la formazione dei comuni si iscriveva nel contesto dell'opposizione tra due culture, due elementi permanenti e strutturali della storia italiana. Il germanesimo, che caratterizzava la classe al potere dalle invasioni in poi e che era l'origine di tutte le forme di dominazione fondate sul principio della forza e del valore militare. E la latinità, che persisteva in Italia, nelle città, nelle corporazioni di mestiere e che fece prova della sua superiorità dando nascita ai comuni. Nel suo libro non si accenna al fatto che la ricerca della libertà diventi il principio che guida la storia fiorentina, la sua forza teleologique. Se Guirò cita rapidamente i conflitti in atto, popolo grasso e minuto, aristocrazia fedale, aristocrazia marchand, coteria tour de principale famille, gelfi e ribellini, neri e bianchi, egli non percepisce l'originalità della visione di Villari. Il conflitto sociale è centrale, esso spiega e genera i cambiamenti istituzionali che tra l'altro Guirò non evoca. Uno sguardo veloce è riservato alle pagine che trattano di storia economica, ma fondamentalmente non si dimostra né si sottolinea come Villari rielabori le interpretazioni tradizionali della storia comunale e quanto la sua riflessione sia innovativa. Guirò si interessa piuttosto, e ciò non destra alcuna sorpresa, alla politica dei papi del 200. Consacra, tra l'altro, un lungo paragrafo alla critica del Villari su questo punto e al Role de Bancaire Florentine dalla Politique Pontificale Théuropaine du Troisième Sècle, così facendo egli testimonia di una tendenza pesante propria della storiografia francese. Si possono dunque tracciare i dati principali di questo silenzio francese. La storia dell'Italia medievale, nonché quella dell'Italia comunale, non è però completamente ignorata. Sappiamo che una vera e propria febbre documentaria accoglie per esempio gli storici della Monarchie de Jullier, febbre che non cesserà durante i decenni successivi. Questo culto del documento si verificò anche per l'Italia. Penso ad esempio alle indagini condotte da Armand Bachel negli archivi di Venezia. Un nome deve essere tuttavia ricordato, quello di Jullien Luchère, a lungo direttore dell'Istituto Culturale Francese di Firenze prima di diventare ispettore generale. Egli nutra un grande interesse per la storia e la cultura italiana. E' un grande conoscitore dell'Italia. Pubblica dunque nel 1915 Le Democrazie Italienne, opera di sintesi, che precede un secondo manuale nel 1933, dedicato alle Société Italienne du troisième ou 15e siècle. Bisogna ricordare che Luchère aveva dapprima sostenuto una tesi di dottorato nel 1906 all'Università di Parigi, che consisteva nell'edizione di documenti senesi del 300. L'originalità del primo libro, Les Democrazie Italienne, all'interno del presagio storiografico francese di quel momento, merita di essere sottolineata con forza. L'opera non presenta un corpus di note critiche, ma nell'introduzione sono indicati i riferimenti di base di tale ricerca. Troviamo così i nomi di Davidson, Villari, Salvemini, Volpe, Cagese. Gli obiettivi trovano anch'essi una loro chiara annunciazione. Luchère vuole delineare una storia politica delle Repubbliche Italiane, valorizzando tra l'altro le fait politique più che le fait économique, e insistendo sul ruolo che avrebbe assunto in questi regimi un'opinione pubblica manifestatasi all'interno dei vari partiti. Se le Repubbliche Italiane sono ancora un oggetto di interesse, è perché costituiscono un'applicazione del principio di sovranità collettiva. La loro storia si confonde in effetti con quella del progresso della democrazia e della partecipazione in crescita dei cittadini al governo delle loro città. Perciò l'autore sviluppa una visione toscano-sentrista della storiografia italiana. Firenze, Pisa, spinto dalle letture di Giochino Volpe, sono studiate in dettaglio. Firenze soprattutto che assume il ruolo centrale visto che al nord le città evolvono verso il regime signorile. Bisogna dunque sottolineare che Luchère ha proposto un'eccellente lettura dei principali autori italiani, ma non solo. Sicuramente ha letto alcune fonti, come ci lascia pensare una citazione che potrebbe essere di Codagnello, sulle divisioni della nobiltà cittadina. Moltiplica le annotazioni pertinenti, ad esempio, quelle che parlano del reclutamento sociale dei consoli. Riflette anche sul termine associazione, che legge, come tanti altri autori del suo tempo, come associazione giurata e non dimentica, nella sua analisi, tutte le forme associative del popolo. Trova a giusta ragione nella fiscalità una delle cause principali dei conflitti tra la nobiltà e il popolo. Definisce in modo appropriato la nobiltà come una classe aperta di ricchi potentes. O ancora, si guarda dal presentare giudici e notai come campioni della borghesia. Luchère potrebbe dunque essere considerato come il mediatore principale, ma in fondo non lo è, visto che l'opera di uno storico che non appartiene alla sfera universitaria, per giunta pubblicata da un editora generico, non sembra beneficiare di una ricezione particolarmente generosa. Tra l'altro, nei cinque anni che seguono la sua pubblicazione, il libro non viene recensito dalla Revue Historique. È dunque necessario privilegiare due altre opere per capire meglio lo sguardo che la storiografia volgeva all'Italia comunale sul finire dell'Ottocento. La prima è l'histoire della civilizzazione au Moyenage et dans les thèmes modernes, di Charles Egnobot. Nel capitolo dedicato alle città, egli si sofferma sulle città italiane, e in particolare sulle città della Lombardia, più ricche, più popolose. Una popolazione composita, visto che cavaliere e signori vi risiedono oltre a mercanti ed artigiani. Già dalla fine del XII secolo, dopo la rivolta contro Federico Barbarossa, ecco che ciascuna di queste città forma un piccolo stato sovrano al quale obbediscono i cavalieri e i villaggi nelle vicinanze. Ma ben presto appaiono le prime divisioni, e a queste ultime, come alle rivoluzioni che avrebbe conosciuto l'Italia medievale, l'autore dedica tutta la sua attenzione. Alcune righe sui consoli, poi sul Podestà. Tre pagine dopo l'inizio delle sue considerazioni sull'Italia, egli arriva di già ai condottieri, ai principi e alle repubbliche mercantili. La seconda opera è il manuale di Cearele di Victor Durue, edito più volte. Dopo alcune considerazioni di rapido sviluppo sulle città e l'anarchia italiana dopo il 1250, l'autore giunge alle tematiche che ritiene più importanti, Venezia e il commercio con il Levante, Firenze e l'industria della lana. Soffermiamoci ora sui tropismi dei medievisti francesi, sull'Italia della storiografia francese attraverso una rapida serie di considerazioni. Basta esaminare l'insieme degli studi condotti dai membri dell'Ecole Française de Rome tra il 1873 e la prima guerra mondiale, per rendersi conto dei loro interessi specifici. Prima fra tutti la storia del papato, quella dello stato pontificio e in alcuni casi quella della città di Roma, oggetto stesso di due tesi ma studiata sempre come un oggetto del tutto particolare. L'accento è posto sulle sue specificità e non sulle similitudini che poteva avere con gli altri comuni italiani. Un altro tema prediletto è quello del meridione e in modo particolare quello dell'Italia angioina, a cui numerosi studi dei membri dell'Ecole Française, quasi tutti formati all'Ecole des Chartres, fanno riferimento scoprendo così le ricchezze degli archivi di Napoli. Da citare tra i pionieri sono Paul Durieux, che pubblica «Les archivi angevini di Napoli» e tutto sul registro del roi Charles Ier, e Léon Cadier, autore di un essai sull'administrazione del Royame di Sicile su Charles Ier e Charles II. Si pensi dopo di loro a Georges Ivet, «Les commerces et les marchands de l'Italie meridionale au troisième et quatorzième siècle», e a Édouard Jourdain, che pubblica «Les origines de la dominazione angevine in Italie». A questa prima fase bisogna scrivere anche lo studio d'Emilberto su «L'art dans l'Italie meridionelle» della fin dell'Empire romane alla conquête du Charles d'Anjou. André Vauchet, introducendo un convegno sugli angevini a Napoli, organizzato dall'Ecole Française di Rome nel 1995, osserva che questo incontro scientifico rinnova le tradizioni più antiche dell'Istituto, che allora era chiamato a dirigere. Gli studi sull'Italia del Sud si erano in effetti prolungati dopo la Prima Guerra Mondiale, arricchiti dalle edizioni di documenti angevini di Elande Bouard e dai lavori di Émile Leonard. Nella prefazione del suo angevin de Naples, Leonard svela con molta chiarezza che il suo principale interesse risiedeva nella storia di questo regno capitingo del Sud d'Italia. Nostro Paese, ordinamente si poco imperialista, a un senso brutale e curante del termo, ha servito di punto di parto, in dei sièclesi lontani, a dei Empires rassemblati sui lontani, a dei sui lontani, a dei sui lontani, a dei sui lontani. Qui aveva, qui aveva, le più durabile e le più vaste d'entre, che tendi al IIIe e al XIVe, l'influenza francese della Mediterranea occidentale alla Baltica, del Piedmont al Peloponnese, alla Sire e alla Tunisie. Un tempo fu allora che l'Italia meridionale, l'Italia centrale ed una parte dell'Italia del nord, le cote albanese presse della moitié della Grèce, la Hungria ed parte della Polonia furent a tel utile moment soumissi a una famiglia francese, ma tre della Provence. Encore, Navael pare non serde pretensione sur le trono imperiale de Costantinople, sur le Royame de Gerusalemme et sur le cote africaine. L'ungo racconto essenzialmente e benemenziale e molto compiacente nei confronti di Carlo I, il conquistatore o de Roissage, la storia del resto della penisola era, quasi inutile dirlo, lasciata nell'ombra. Alcune pagine tracciavano un panorama dell'Italia prima che Carlo I vi costruisse Sassegnerie. L'autore insisteva sulla parcellizzazione territoriale, la diversità politica e le lotte ideologiche. L'analisi delle istituzioni comunali era ridotta al nulla quando essa diventava più profonda prolissa sui partiti e sulle opposizioni civili che non erano in niente delle lotte di classe. Durante questo secondo periodo, che va dagli anni 20 alla fine degli anni 50 del novecento, gli studi sul papato, in particolare durante l'epoca avvignonese, hanno tuttavia occupato una posizione alquanto egemonica. La corte pontificia, le finanze pontifice, le relazioni dei papi d'Avignone con le campagne commerciali e bancarie, tanti campi di indagini che non offuscano tra l'altro quelli dedicati esclusivamente allo stato pontificio. Nessun dubbio sul fatto che si osservasse una vera e propria fioritura di lavori che non controbilanciavano numericamente le ricerche sull'Italia meridionale o bizantina in calo o quelle sull'Orente latino-latinizzato. È dunque necessario constatare come i membri dell'Ecole française sembrano ignorare gli stimoli suggeriti dai padri fondatori degli Annals, che dopo la fondazione nel 1929 della rivista fecero conoscere un'Italia medievale, quella delle origini del capitalismo e dell'economia monetaria. Pubblicando nel primo numero della rivista un lungo articolo intitolato «L'Estraformation du méthode commerciale dans l'Italie medievale», André-Emil Sayu ha sottolineato l'interesse degli Annals per l'analisi delle strutture più avanzate dell'economia, anche se in questa storia infieri le tematiche legate alla storia agraria o alle regioni dell'Italia meridionale non erano comunque dimenticate. Tuttavia, sono gli interrogativi sulle origini del capitalismo, banca, credito, moneta, a ricevere un trattamento speciale e privilegiato. Da qui gli articoli di Lucien Fevre e di Henri Hauser, prima dei tre studi nel 1937 di Roberto Lopez, di Gino Luzzato e di Raimond de Roever, sul capitalismo genovese, sulle attività economiche del patriziato veneziano e sulla contabilità a partita doppia. Da qui numerosi resoconti di opere come quella di Armando Sapori e di Luzzatto, ma non solo. Bloch fa così nascere, già dal 1929, i lavori di Pietro Vaccari e di Gennaro Maria Monti. Fevre commenta abbastanza lungo nel 1934 la traduzione francese dell'opera di Joan Plesner, L'Emigration de la Campagne à la ville libre de Florence au troisième siècle. Le risorse documentarie italiane attirano sempre più l'attenzione degli storici, come gli archivi cittadini e soprattutto fondi notarili e mercantili. Mark Bloch presenta, nel 1930, Gli archivi datini con uno straordinario tesoro documentario. Cinque anni dopo, lo stesso Bloch celebra con grandi elogi i libri di commercio dei Peruzzi, pubblicati da Sapori e il suo contributo alla storia del premier capitalismo. Una conclusione si impone. Nasce un vivace interesse per la ville méditerranéenne, così differente della ville de Renan et Flamand, per tanto tempo considerata come un vero e proprio modello. Ma l'Italia continua a rimanere nell'ombra. Inoltre ci vuole tempo prima che gli storici francesi dell'Italia abbandonino le loro tematiche predilette. Jourdan, uno degli specialisti dell'Italia angioina, rispondendo ad una precisa richiesta, dà alla luce un'opera di sintesi dal titolo L'Allemagne et l'Italie au deuxième et troisième siècle, opera che è il quarto tomo dell'histoire générale des Gloz. La sua sintesi diventa per lunghi decenni il riferimento essenziale per gli studenti di storia che si interessino a quel periodo. Egli figura ancora oggi nelle bibliografie che segnalano la validità del suo rapproccio evenemenziale. La tesi dell'autore, Le origine della dominazione angevin en Italie, è consegnata in una prefazione di oltre 200 pagine consacrate allo studio della prima metà del XIII secolo, al ritmo di una storia politica documentata e dettagliata per gli anni 1250-1265, la Lombardia dopo la morte di Federico II, la politica personale di 1904, la dissoluzione della Lega Lombarda, lo stabilirsi del regime signorile, la crociata contro Zellino, la Lombardia di Alessandro IV, l'imporsi dell'influenza di Manfredi, la Toscana dopo la morte di Federico II. La prefazione riuniva in un copioso materiale che passò in modo abbondante nella sintesi dell'estuare generale di Glotz. Le caratteristiche intrinseche dell'opera sono un'organizzazione puramente cronologica degli eventi politici, militari e diplomatici, illustrati con grande chiarezza. I Comuni d'Italia, se vogliamo interessarci ad altri temi che non Legnano, la pace di Costanza, Corte Nuova o il vicariato di Carlo D'Angio in Toscana, occupano poco spazio in quest'opera di 450 pagine. Lo studio della formazione della Lega Lombarda non presenta alcun riferimento alle istituzioni comunali. L'autore, tra l'altro, dedica poco più di una pagina alle lotte sociali in vigore nelle città lombarde tra i Pedites e i Milites. Il movimento dell'Alleluia attira maggiormente la sua attenzione, come lo fanno la nuova organizzazione amministrativa dell'Italia con Federico II o le origini fiorentine dell'opposizione tra Guelfi e Ghibellini. Da notare la relativa solidità dell'analisi dedicata allo stabilirsi del regime signorile, mentre quello del primo popolo fiorentino sembra in maniera netta datato storiograficamente. E solo confrontando l'opera di Jordan con le lezioni di Edmond Perin che riusciamo a misurare l'evoluzione delle conoscenze. Perin, che non è uno specialista della storia italiana, propone una narrazione serata e precisa degli avvenimenti, ma la riflessione sull'età politica e sociale dell'Italia nel 1925 è ridotta a una breve sintesi. Egli descrive l'organizzazione politica e amministrativa del Regno d'Italia e delle istituzioni comunali, mettendo in risalto il carattere aristocratico di tali comuni all'epoca consolare. Facile oggi giudicare questa sintesi molto datata, ma forse per la prima volta ecco apparire nelle conoscenze messe a disposizione degli studenti un'analisi delle attribuzioni dei consoli, del ruolo della Rengo, dei Capitanei e dei Valvasores di Milano. L'assenza di note critiche impedisce purtroppo l'identificazione precisa delle fonti e della bibliografia a cui lo storico si è riferito. Le stesse osservazioni valgono per la descrizione dell'età politica e sociale dell'Italia pres il 1268, inserita nella lezione del 1952 dall'Allemagna e dall'Italia dal 1273 al 1378. Le fasi dell'evoluzione istituzionale comunale sono allora passate in rassegna velocemente. Comune consolare, comune del Podestà, vittoria del popolo. Più a fondo invece vengono analizzate le lotte tra Guelfi e Ghibellini, focalizzando l'attenzione sugli esempi di Venezia, Genova e Firenze, prima di giungere attraverso Ferrara, Milano e Verona ad un'analisi abbastanza puntigliosa dell'imporsi di un regime signorile e di proporre un'etude speciale su Roma. Osservo però, ed è questo un punto sul quale i riferimenti di Perrin possono essere chiariti, che l'autore nel 1941 aveva pubblicato un appunto negli Annale dal titolo Aus Origins della Signoria Italienne. Vi critica una ricerca di Masi, che considerava l'imporsi del regime signorile da un punto di vista prettamente giuridico. Testimoniava un'indagine documentaria di Wolfgang Hagemann sulla Signoria dei della Scala, dimostrando una vera padronanza bibliografica. In questa piccola apertura verso la politica sociale dei comuni italiani, il ruolo delle riviste ha assunto un'importanza fondamentale. Nonostante tutto ciò, e giungo così ad una serie di considerazioni conclusive, ad occupare i primi posti della scena storiografica è l'Italia degli uomini d'affari. Un primo e sicuro segno lo si deve cercare nel periodo che, con Jacques Le Goff, è stato denominato come la seconda fase degli Annale. Tra il 1945 e il 1969 questa seconda fase fu marcata dalla personalità di Fernand Brodel. Cresce dunque l'importanza della storia economica e l'Italie des Annales è più che jamais un'Italie économique. Tendenza questa legata soprattutto al ruolo e alla partizione di storici italiani, che sono prima di tutto storici economici. A confermare questa tendenza ricorrono le pubblicazioni della sesta sezione dell'Ecole Pratique des Autestudes, fondata nel 1947, come per esempio la serie di conferenze di Sapori sulla figura dei Martian Italien au Moyenage. Tra i nomi più conosciuti ricorrono quelli di Lopez o di Sapori per i loro articoli o per le recensioni delle loro opere. Nomi nuovi fanno la loro comparsa, come quello di Carlo Maria Cipolla, prima di quelli di Ruggero Romano e di Alberto Tenenti. Il premato della storia economica si impone anche se in quegli anni il titolo stesso della rivista che viene modificato in Annales, Economie, Société, Civilisation, suggerisce la volontà di elaborare una storia totale e testimonia del successo sempre più radicato della storia religiosa e culturale di una storia ouvert aux mentalités aux sensibilités aux moeurs même. Inoltre, l'Italia degli Annales non è più un'Italia unicamente medievale. Senza dubbio, durante la sequenza precedente, Augustin Reynaudet aveva già fornito dei resoconti sulla storia del Rinascimento, ma sono i lavori di Tenenti, essenzialmente dedicati al XV e XVI secolo, a confermare questa dilatazione o slittamento cronologico, influenzato senza dubbio da Brodel e dal suo longue durée. L'Italia di quegli anni, scrive Legoff, è l'Italia del Mediterraneo. Inoltre, non sono solo gli Annales a testimoniare in quegli anni il primato della storia economica. Bisogna allora rendere conto del percorso scientifico di Yves Renouard, percorso che riassume in qualche modo le evoluzioni della storiografia francese. Questo allievo di Jourdan, che aveva discusso nel 1909 una tesi in latino intitolata De Mercatoribus Camere, apostoliche secolo XIII, riprende lo studio dei rapporti tra il papato e le compagnie commerciali e bancarie durante il Trecento. L'accento generale della riflessione è spostato sul fattore economico, visto che anche la tesi complementare si fonda sull'analisi delle compagnie commerciali e bancarie utilizzate dai papi d'Avignone prima del grande scisma. Philippe Wolff lo annota nel volume d'Omaggio postumo a questo storico. «Historien de l'economie, Renouard ne l'était pas stricto sensu. Se parli histoire ecclesiastique, mai elle aussi conçue de façon large qu'il était venu à l'analyse de l'economie et il s'était ensuite plus d'en plus interesse celle-ci. Di fatto, negli annales della seconda generazione, nel 1948 e nel 1952, per esempio, lo storico Renouard, che non appartiene a questa scuola, produsse una serie di articoli su quegli stessi uomini d'affari italiani. Egli, lo sappiamo, non si interessò solo all'Italia. La sua nomina a Bordeaux nel 1937 e i suoi vent'anni di insegnamento nella stessa città spiegano come un numero consistente di suoi lavori sia dedicato alla Francia meridionale. Ma alcuni suoi articoli dimostrano come, nei porti dell'Atlantico, a Bordeaux o alla Rochelle, egli poteva seguire quei mercanti italiani a cui, nel 1949, consacrerà un eccellente libro ancora oggi insostituibile, Les hommes d'affaires italiennes du Moyenage. Nello stesso tempo, all'Ecole Française di Roma, nonostante persistano ancora e sempre le curiosità di un certo numero di studiosi, soprattutto Chartistes, per il papato, il clero e lo stato pontificio, gli studi legati alla storia economica sono sempre più numerosi. Una generazione si interessa agli scambi, al trionfo economico delle città italiane, quando, un decennio più tardi, alcuni allievi, i primi di Pierre Toubert, si interessano alla storia delle campagne e delle strutture agrarie. Le sintesi proposte, allora, sono tutte caratterizzate dallo stesso approccio di stampo economico. Tre esempi precisi e quasi contemporanei ce lo confermano. Nel 1962 esce il volume Nessence de l'Europe nella collezione Destin du Monde, diretta da Fevre e Brodel. Lopez, l'autore, considera il lungo millennio che si estende fra il IV secolo e il 300. Le istituzioni comunali vengono analizzate in maniera specifica, anche se un po' rapidamente. Del Lopez, però, l'immenso storico di Genova e dell'economia commerciale, sono ancora più belle e più precise e più ispirate le pagine dedicate alla mobilità sociale nelle città, alla storia dell'industria laniera e al commercio au quatre coins du monde. Tre anni dopo esce la civilizzazione dell'Occident medieval di Le Goff, nella collezione Le Grandes Civilizations, diretta da Raymond Bloch. Le Goff aspira a svelare il Medioevo des profondeurs, des fondements des structures. La Renaissance urbana, il ruolo des villes dans les sciences commerciaux, l'espansione genovese e veneziana, come il commercio ansiatico, appartengono molto di più a questa épaisseur che le perpérite politique. L'ultimo esempio è il terzo tomo dell'histoire générale des civilisations, diretta da Maurice Crozet, tomo elaborato da Édouard Perrois, e quattro suoi stretti e prestigiosi collaboratori. Come suggerisce il titolo, l'expansion de l'Orient et la naissance de la civilisation occidentale, non si tratterà questa volta del solo Medioevo occidentale, ma anche delle civiltà dell'Asia, dei mondi mizzantini, musulmani. Nel capitolo intitolato Le Renouveau de l'Europe troviamo una breve sintesi sulla rinascita della vita urbana e del movimento comunale in cui però, bisogna sottolinearlo, predomina l'esempio della Francia del Nord su quello della Lombardia. Le pagine dedicate agli uomini d'affari italiani incontestabilmente sono meno datate perché riposano su una bibliografia molto più pertinente. L'epilogo di questo nostro percorso è vicino. Nel 1965 Renouard pronunciava alla Sorbonne due lezioni che furono poi pubblicate, le Ville d'Italie de la fin du deuxième siècle au début du quatorze siècle e l'Italie au quatorze siècle. Si tratta di una serie di monografie analitiche sulla città dell'Italia bizantina, Napoli, Amalfi, Venezia, prima delle città del Regno Mitalie, Pisa, Genova, Firenze e Milano. La seconda parte dell'opera presentava delle visioni d'insieme sull'Italia tra le fine del XIII e gli inizi del XIV secolo. Oggi l'opera, eccellente al momento della sua pubblicazione, può essere facilmente considerata un po' invecchiata. Le lacune, tra le quali l'assenza di Roma, avrebbero dovuto essere solo provvisorie. Ci limiteremo a sottolineare il percorso storiografico compiuto paragonando le lezioni di Renouard con quelle precedentemente proposte da Perrin. Seguendo però ogni città studiata una sequenza cronologica che considera la totalità degli aspetti dell'evoluzione storica, le trasformazioni topografiche, la vita culturale e artistica accanto alle caratteristiche economiche o alle differenti infasi istituzionali, la storia dei comuni italiani è affrontata in maniera assai completa. Di nuovo, visto che si tratta della pubblicazione di una lezione universitaria, non viene su una nota critica che ci possa informare sulle letture e sui riferimenti dell'autore. Tuttavia, tra le righe si possono incontrare i nomi di Davidson o David Rilly, per riferimenti alla demografia pisana, o ancora di Enrico Fiumi, per quanto concerne San Gimignano. Inoltre, l'autore ricorre a Dante, Petrarca, Villani o Brunetto Latini e commenta anche Dino Compagno e Marco Polo, o delle descrizioni veneziane. Le analisi del De Magnali Vusurbis Mediolani di Bonvesin della Riva sono pertinenti e la sintesi che l'autore propone sulla tradizione delle laudes civitatum è ben documentata. Tra le altre riflessioni vi è un paragrafo molto denso in cui si delinea un interessante retratto intellettuale e sociale di Pietro De Crescenzi. Sono gli articoli di Renoir, raccolti in due volumi di Etude Medieval, che ci informano meglio sulle ricerche e le letture che lo hanno guidato nell'elaborare questa sintesi. Penso in modo particolare ai testi raccolti nella quarta parte, Commerce et Toms d'Affaires Italien et Française, dove figurano accanto a numerosi articoli sugli uomini d'affari uno studio intitolato Destin d'Una Grande Metropole, Pise, ma anche dei lavori condotti nel campo della storia demografica cittadina o in quello della storia delle strade o della trasmissione delle notizie. Le Goff, nella sua introduzione alla riedizione delle villi d'Italia del 1969, osserva che le due cours presenti, ici manifestando a Merville, ce che ha été la marca propria dell'inspirazione historica di Renoir, la SES è una società del lien entre l'economia e la cultura. Au demorante, alcun ouvragio di sintesi, ed ici ancora il vero Renoir è incomparable, n'existente sui gioie passionati. Da allora è questo sujet passionante che la storiografia francese comincia a scoprire più ampiamente. È del 1965 il primo articolo di De La Roncière dedicato a Firenze nel 1300. Seguendo i suggerimenti di Renoir e di Brodel, questo storico ha in effetti intrapreso negli archivi fiorentini e particolarmente nei fondi notarili un'indagine sulle campagne nei dintorni di Firenze nel 300. Nel 1976 esce il lavoro monumentale Florence Centre économique regional, frutto di anni di spogli archivistici e di riflessioni. Poi le pubblicazioni si susseguono e gradualmente le curiosità di De La Roncière si diversificano. De la bordo dei paesani, il è passato a loro devoluzione. De loro campi a loro iglese, delle strutture di loro quotidiane a loro croyance. Il ha anche accompagnato fino a la ville del placemento dei loro marchandise e dei loro infatti. Il ha silonato le marchandise urbano e registrati nelle compatibilità ospitaliere. Le prix desi derniers agricoli e d'autres analisi la reazione dei clienti, modesta ausoscizionale dei prix e a celle dei salari, penetrati dans l'interior bourgeoisie. Nel 1979 la pubblicazione della tesi di Pierre Racine, Plaisance du deuxième siècle alla fin du troisième siècle, rappresenta un'altra tappa significativa. Per la prima volta, un dottorato di stato è interamente dedicato ad una città dell'epoca comunale. Per la prima volta, dall'analisi della società precomunale all'agonia comunale, prima delle evoluzioni successive che condussero all'affermarsi del potere signorile, la storia delle istituzioni e della società sono analizzate da vicino con precisione, anche se la storia del commercio e delle attività finanziarie gioca ancora un ruolo predominante nell'interpretazione generale, ciò che non deve sorprendere, visto che si tratta di un allievo di Renoir. Le ricerche di Jacques Herz testimoniano in parallelo di simili riflessioni. Egli è l'autore, nel 1958, di una tesi di dottorato en lettres pubblicata nel 1961 dedicata a Genova nel 1400. Le attività mercantili e finanziarie costituivano l'oggetto di studio principale, pur prendendo in considerazione la società e la vita politica. Senza abbandonare Genova, la fine del medioevo e la storia economica, l'autore allarga ormai i suoi centri di interesse e, in alcune sue opere, studia l'Italia dei comuni. L'albergo genovese lo conduce così ad intraprendere uno studio più ampio delle strutture familiari. Dopo il clan familiare e il suo ruolo nella vita politica della città, gli studi ai partiti e la vita politica nella città. Il Comune italiano attira a lungo la sua attenzione anche se dei paragoni in questo libro vengono fatti con altri spazi dell'Europa occidentale. Allo stesso modo, l'urbanesimo genovese è confrontato con altre situazioni e l'edizione del Liber Terminorum di Bologna illustra un tale approccio che associa lo studio delle forme di urbanesimo medievale a quelle delle strutture politico-sociali. Le indagini sull'evoluzione del tessuto urbano all'analisi nel seno della comunità dell'evoluzione dei rapporti tra i partiti e i clan. La lettura degli annal pubblicati negli anni 1970-1980 conduce tuttavia a temperare un entusiasmo troppo eccessivo. Senza dubbio, un'evoluzione generale spiegherebbe che il Medioevo degli annal sia divenuto, dopo il 1970, il Medioevo delle mentalità, delle ideologie, delle sensibilità e del comportement collectif della culture materielle e delle nostre. Ma l'Italia degli annal è in quegli anni soprattutto un'Italia della demografia e delle strutture familiari, un'Italia della storia dell'alimentazione e dei rituali, un'Italia del XV secolo. Delle evoluzioni sono in corso. Elisabeth Carpentier utilizza gli estimi di Orvieto per dare corpo ad un'analisi demografica, sociale ed economica. I centri di interesse di alcuni membri dell'Ecole française si sono anch'essi spostati verso l'Italia comunale. Numerosi tesi, dirette principalmente da Tuber, il cui libro magistrale usciva nel 1973 e offriva, nonostante fosse dedicato prevalentemente alle campagne delle pagine importanti per la storia delle città, cominciano a formare un insieme di grandi studi monografici. Lo spazio dell'Italia comunale si trova così ampiamente invaso. Roma, Venezia, le campagne lombarde, Siena e il suo contado, Arezzo, Padova e il suo contado. Due considerazioni si impongono. Da una parte, tutte le grandi tesi di dottorato di storia regionale fuoriuscite dallo stampo tubertiano non si interessano all'Italia comunale. Il Sud non è dimenticato. Oppure lo studio è centrato piuttosto su di un territorio e sulle sue evoluzioni durante il grande periodo feudale, tra X e XII secolo. Infine, altre ricerche spostano lo sguardo verso il XIV e il XV secolo. Dall'altra, bisogna riconoscere alla produzione storiografica francese due originalità. La prima è la supremazia della storia delle campagne sulla storia delle città. Di conseguenza, un'attenzione del tutto particolare è portata alle trasformazioni delle strutture agrarie, scaturite dalla dominazione progressiva dei cittadini sulla proprietà rurale. La seconda è l'attenzione per le strutture cittadine, che si tratti sia delle strutture materiali delle città nella loro espansione, sia delle politiche urbane promosse dalle autorità. Nel cuore di queste ricerche, a causa della cronologia assunta e dell'originalità dell'approccio, l'esempio padovano di Gérard Rip costituisce sicuramente l'apporto più importante per la storia dell'età comunale. Infine, incontriamo qui un'altra tematica dell'influenza crescente, un'altra specialità della storiografia francese, si sono moltiplicati gli studi sugli ordini mendicanti e le città italiane, sulla religione dei laici, sulle eresie e soprattutto sulla religione civica. Il numero dei partecipanti francesi all'inchiesta collettiva animata da Jean-Claude Marie Vigueur sul personale politico itinerante nell'Italia comunale costituisce la miglior testimonianza di questa presenza storiografica e del rapido imporsi negli ultimi decenni di nuove problematiche. Ma le pubblicazioni che ritmarono il progresso della genesi medievale e dell'antroponomia moderna nello spazio italiano mettono in rilievo una medesima ed unica realtà, di cui tra l'altro riferiscono alcune pubblicazioni recenti. Curioso cammino quello che è stato appena tracciato. Senza dubbio, bisogna ripeterlo, esso riassume per quanto possibile le evoluzioni della disciplina storica e la successione di momenti storiografici ben particolareggiati. Potremmo poi discernere di sicuro durante più decenni uno di quei tratti specifici che la storiografia francese ama nascondere a se stessa, la tendenza che le è propria a proibirsi ogni tanto certe tematiche, a guardare gli altri o l'altrove solo alla luce dei propri interrogativi e, soprattutto, a lasciarsi trassinare da ciò che potrebbe assomigliare ad un sentimento di superiorità. Bisogna riconoscere, infine, conclusosi il tempo degli appuntamenti storiografici mancati, la presenza all'interno di questa produzione storica, che non è solo divenuta abbondante, di una serie di originalità proprie, di alcuni interrogativi particolari, di una curiosa combinazione di analisi convergenti e di sguardi singolari che partecipano di una storia dell'Italia comunale oggi più che mai dibattuta, valorizzata e approfondita. Grazie a tutti.